Ave, l'argomento del giorno è finti redpillati e scuse. Perché parlo di ciò? Perché a me interessano le cose sotto un'ottica antropologica, perché le persone si comportano in una certa maniera, perché le persone fanno determinate cose, eccetera, eccetera, eccetera. E alcuni giorni fa stavo guardando un video di Marco Crepaldi, che tra l'altro stimo abbastanza per i contenuti che porta e anche per le cagate che gli sono successe ultimamente. E in un video parlava di redpill e a questo associo anche un altro argomento, cioè i finti redpillati. Allora, Marco Crepaldi ovviamente non dice che sei redpillato, stava esprimendo il concetto, per quanto non mi piace a me la parola redpillato. dice che fondamentalmente i redpillati sono persone che pensano che le donne abbiano il potere sessuale. La redpill non è questa, chiaramente. La redpill vuol dire semplicemente vedere la realtà per com'è realmente. Se parliamo di rapporti tra uomo e donna, vedere come sono i rapporti uomo e donna. Non è redpill dire che le donne hanno il potere sessuale, quindi è sbagliatissimo. In secondo luogo, finti redpillati, perché in una pagina italiana di Facebook si chiama il redpillatore, si annidano tanti utenti frustrati che non mettono una foto del profilo, che dicono di essere incel, dicono di essere brutti, dicono di essere redpillati, quando, come dico sempre, fondamentalmente sono dei misogini che trovano delle scuse per giustificare la loro situazione, trovano dei colpevoli per addossare le colpe a qualcun altro, non pensi proprio di responsabilità, e di conseguenza trovare scuse e trovare colpevoli è la maschera che copre la mancanza di azione di queste persone, in parole povere, quindi questa introduzione introduce il video. Avevo già fatto un video, mi pare, sugli incel e la blackpill nell'altro canale. La blackpill semplicemente è una maniera di vedere le cose molto nichilista, senza speranze fondamentalmente, e io sono una persona realista tendente al nichilismo, mettiamola così, ma non perché non abbia speranze, perché vedo le cose in maniera non negativa, però tendente un po' al negativo. Questi redpillati italiani che vanno sul redpillatore, compreso anche il redpillatore, non fanno altro che dare le colpe alle donne, perché io seguo altri canali YouTube in lingua inglese, americane, ho letto, come ben saprete, The Rational Mail, e in nessuno di questi canali, in nessuno di questi libri, c'è un'accusa alle donne, ci sono colpe date alle donne, anzi, sono più le colpe date agli uomini per i loro atteggiamenti e comportamenti da zerbini, da nice guy, da simp, visto che adesso va di moda dire simp. Quindi, queste persone che dicono insieme al redpillato sono piccato dei blackpillati, che vogliono dare le colpe alle donne, perché come ho detto, la redpill non è questo. La redpill è vedere le cose per come stanno realmente, non meglio, non peggio, come stanno realmente. Dire, le donne per queste cose sono così, c'è l'ipergamia, gli uomini sono dei simp, la maggior parte dei casi sono degli zerbini, cosa fare, cosa non fare, perché le donne regiscono in questa maniera a questa situazione, e perché gli uomini regiscono in questa maniera a questa situazione, bla 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 bla. Quindi, tutta una serie di cose sconfinate, terminologie redpill. Ma, come sempre, scrivete qua sotto le cose di cui volete che io parli. Questo è silicone. Invece, se guardate i glossari, gli argomenti dei redpillati italiani, tutto verte al blackpill, all'incel, alla misoginia. Questa è la situazione italiana del redpill. Non è redpill, è dire che è redpill, ma in realtà è una blackpill, in realtà è misoginia. E questa gente non capisce niente. E vi faccio esempi molto semplici, perché da poco ero nella pagina del redpillatore, e non mi ricordo che la stessa parola, di colpo di fume, perché ogni cosa del redpillatore, di questi incel, di questi brutti, che magari non sono neanche brutti, pensano semplicemente di essere brutti, ogni cosa avverte nel dire, puoi parlare di fare la pizza, se fai un articolo su fare la pizza, sarà sicuramente colpa delle donne, perché è una pizza, è fatta in una certa maniera, e queste non sono parole mie, io non do la colpa delle donne, sto dicendo come vedono le donne e il mondo, certe persone. E c'è un articolo su colpo di fume, e non mi ricordo di cosa stesse parlando, un utente non mi ricordo cosa abbia detto, parlando della redpill, e un altro utente ha detto, ma allora cosa si dovrebbe fare secondo te per attirare le donne? Che luoghi dovresti frequentare? Come dovresti vestirsi? Che taglio di capelli dovresti avere? Che macchina dovresti avere? Ed è qui che casca l'asino di questi redpillati italiani, perché non devi pensare in ottica di cosa devo fare per piacere alle donne, cosa devo fare per avere amici, cosa devo fare per questo, cosa devo fare per quest'altro, tu devi pensare cosa devo fare io per me stesso per vivere bene, non io per gli altri, io per avere qualcosa, io per ricevere qualcosa, io per avere donne, io per questo, io per quest'altro, Cioè, bisogna smettere di pensare in termini di cosa devo fare io per piacere agli altri, io ho già fatto un video di piacere alle persone, donne sbagliate per te, tutte queste belle cose, questo è il fulcro del discorso, che si sbaglia in Italia, sbaglieranno anche all'estero, ma soprattutto in Italia, perché io vado in forum, per curiosità, a vedere cosa scrive la gente, e ci sono solo incel, che non trova nessuno con cui scoppare, usano una terminologia a me ignota, per giustificare la loro assenza di risultati, usano scuse, come per dire, sono brutto, faccio schifo, poi magari guardi le foto, non sono neanche brutti, vedi gente davvero brutta, più brutta di loro che fidanzata, quindi sono cazzate, sono cazzate, e sono tutte, come ho detto tante altre volte, scuse per giustificare la mancanza di azione, per dare un colpevole che possa partire a queste persone, ma non è colpa mia, sono le donne che vogliono solo quello alto tot, quello con i soldi così, quello con i capelli cos'ha, quello con lo status, e la teoria LMS, e questo, e quest'altro, e quindi è colpa delle donne, se non è colpa delle donne è colpa di Dio, che sono brutto, che mi sono caduti i capelli, e questo, e quest'altro, sono tutte scuse, è inutile che poi la gente magari verrà in questo video a mandarmi a fanculo, perché la gente è sfigata, riesce a realizzarsi solo dando colpe a qualcuno, trovando scuse, oppure mettendo dislike ai video, e mettendo documenti di merda, questa è la realizzazione di queste persone, quindi perché secondo questo ragionamento, anch'io, io sono andato un metro e settantaquattro, lo so perché da poco sono andato a nutrizionista, per questo sono più mingerlino rispetto a come mi vedevate in passato, e anche qui potrei trovare scuse, potrei dire, eh sì, ma sono così per il covid, perché mi sono fatto male alla spalla, non mi sono allenato per un anno praticamente, e potrei tranquillamente dire, trovare scuse, le scuse, cioè è vero che mi sono fatto male alla spalla, non mi sono allenato per tot, è vero che c'è stato il covid, ma sicuramente avrei potuto fare di più, e adesso mi sono guardato allo specchio, e mi sono detto, non è più accettabile, trovare scuse, o colpevoli che siano il covid, o la mia tendinità alla spalla, faccio un sacrificio economico, un investimento, vado a un professionista che mi fa una dieta ad hoc, a misura su di me, seguo la dieta e mi alleno bene, punto, essendo onesto con me stesso, ma non perché debba dimostrare agli altri, che per parlare di bodybuilding, o di miglioramento personale, debba pesare 90 kg di muscoli, e avere una body fatta del 5%, no, perché per me stesso devo fare questa cosa, perché a me piace, non mi va di trovare scuse, e colpevoli per queste cazzate, quindi, dicevo, sono alto 1,74, qualcun altro, nella mia condizione, andrebbe in un cazzo di forum, a dire che, sono alto 1,74, sto perdendo i capelli, ho una narice più alta, ho un pochettino più a sventola, ho perso i muscoli che avevo, cioè, cazzate, cioè, probabilmente esiste un'altra persona al mondo, pariestetica, mia, che si considera brutta, che si considera inferiore, a qualcuno, che vive in funzione di dire, devo fare soldi per piacere alla tipa, eh, ma le tippe se non c'hai la macchina così, non le piaci, cioè, è ovvio che, questo è un circolo vizioso, e la gente che continua a pensare così, non riuscirà mai, quindi tu se la pensi così, finisci di vedere questo video, mettimi il like, condividilo, fammi una donazione, e poi, datti una cazzo di svegliata, inizia a dire, non troverò più scuse, non darò più la colpa a nessuno, e mi assumo le mie responsabilità, di migliorare la mia vita, non per trovare la fidanzata, non per piacere a quello, non per avere più amici, non per guadagnare, 6.000 euro al mese, anche se quella potrebbe essere una buona motivazione, ma per me stesso, perché voglio avere la vita, secondo le mie regole, come diceva Steve McQueen, I live for myself, and I answer to nobody, cioè, vivo per me stesso, non rispondo a nessuno, questa potrebbe essere sintetizzata, una massima, un aforismo, red pill, cioè, vivere per se stessi, e non rispondere a nessuno, non ne vale davvero la pena, di perdere tempo, pensando, a quello che devi fare, per piacere alle donne, come ha scritto quel tipo, nel commento, ma sì, quindi, cosa dovresti fare, per piacere alle donne, che luogo dovresti frequentare, come dovresti vestirti, quanti soldi dovresti avere, che macchina dovresti avere, e poi, e questo, e questo, e quest'altro, cioè, no, è chiaro, se tu rimani, fossilizzato, in un pensiero così, di, faccio questo, per avere questo, non otterrai un cazzo, perché devi fare le cose, per te stesso, non per gli altri, quindi, in conclusione, la red pill in Italia, è fondamentalmente, una black pill, misogina, non semplicemente, una black pill di, nichilismo, è, nulla esistenziale, è una black pill, orientata, verso la misoginia, perché una persona red pillata, non è misogina, punto, una persona red pillata, vive per se stesso, e, è consapevole, che vivendo per se stesso, mettendo se stesso, al primo posto, non attaccandosi, agli altri, non avendo aspettative, nei confronti degli altri, ma solo su se stessi, otterrà quello che vuole, otterrà una maggiore fiducia, in se stesso, e di conseguenza, avendo un'autostima più alta, ottenendo, delle cose, in base all'impegno, su se stesso, per se stesso, perché è impossibile, che impegnandosi su se stessi, non si raggiungano obiettivi, che sia, migliorare il proprio fisico, trovare un lavoro migliore, viaggiare, se vuoi viaggiare, laurearsi, se vuoi laurearti, cioè, un impegno totale, è concentrato, su se stessi, sul proprio obiettivo, è impossibile, che non porti risultati, se è davvero un impegno concentrato, con dedizione, giorno e notte, su se stessi, per i propri obiettivi, è impossibile notere risultati, e con i risultati, chiaramente, si otterrà più autostima, più fiducia, nei propri confronti, perché, si vedrà, che materialmente, i propri sforzi, hanno portato, al raggiungimento, di un obiettivo, e di conseguenza, si sarà, più in pace con se stessi, si sarà più autostima, e quando si sia, più in pace con se stessi, quando si è più autostima, quando si fanno le cose, per se stessi, quando non ci si preoccupa, di dover piacere agli altri, quando non si preoccupa, di fare una figura di merda, quando non ci si preoccupa, di, no, me ne sto a casa, il sabato, perché non ho voglia di uscire, quando sei contento, che te ne stai a casa tua, per i cazzi tuoi, a fare le cose che ti piacciono, perché piacciono a te, le fai per te stesso, potrai uscire fuori, avere un'aria di, menefreghismo positivo, mettiamola così, perché non ti tange il fatto, che tu possa non piacere, a una determinata persona, a una determinata donna, a un amico, a un familiare, a un cameriere, a che cazzo che è, non ti tange, perché vivi per te stesso, questo è il discorso del RP, il vedere le cose come stanno, realmente, non incazzarsi perché stanno così, e vivere per se stesso, migliorando la propria vita, sempre, ogni cazzo di giorno, mettendo se stesso al primo posto, come mental point of origin, lo dico in ogni cazzo di video, ed è questa la via per, star meglio, con se stessi, e chiaramente non vuol dire star bene, sempre non vuol dire, non avere brutti periodi, non vuol dire essere tristi, eccetera, eccetera, però chiaramente se, una persona, si incazza, perché, una tipa, che è una gold digger, interessata solo ai soldi, e agli aspetti materiali, e consumisti, o consumistici, vabbè, dedita al consumismo, se una donna così, non ti caga, perché non hai soldi, è ovvio, che non potrai, avere quel tipo di donna, ma è una donna sbagliata, chi, chi vorrebbe stare, con una donna del genere, così materialista, così, consumista, chi, ma perché, chi te lo fa fare, di farti sangue marcio, per avere, una, donna, che, ti vuole solo sfruttare, parlo di donna, ma come potrei parlare, di un amico, che si vuole approfittare di te, perché, che cazzo ne so, perché sa, che tu, offri sempre la birra, la pizza, chi cazzo te lo fa fare, di star dietro a un amico, che, ti vuole la sua vita, solo per, sfruttarti, quindi, non è solo discorso di donne, amici, ho detto donne, perché stiamo parlando di quello, fondamentalmente, ma, come puoi incazzarti, dire tutte le donne, sono così, non sono più dettore delle donne, io non sono mai stato in vita mia, con una donna così, mai, mai, e non mi interessano, queste donne così, quindi, c'è una scrematura, non mi incazzo neanche, per queste cose, perché ci sono sia uomini, che donne così, è inutile incazzarsi per certe cose, come se tutte le donne fossero così, come se tutte le donne volessero un uomo alto, un metro e novanta, che guadagna 500 mila euro all'anno, che ha la Ferrari o la Porsche, o che cazzo ne so, c'è inutile, quindi, spero di essere stato chiaro, spero che il video vi sia piaciuto, esponete i vostri dilemmi e drammi esistenziali, se ne avete, se siete frustrati, mettete il dislike, se siete arrivati fino alla fine del video, potete anche scrivere un commento di merda, e poi andare a ripostare il video in qualche forum, per dare la possibilità a chi ha voglia di trovare scuse colpevoli, per la propria condizione, di sfogarsi e trovare un'altra scusa, un altro colpevole, cioè io, che sto dicendo la verità, oppure potete decidere che potete migliorare qualcosa della vostra vita, perché c'è sempre qualcosa a migliorare, che sia mettere in ordine la casa, che sia mettere i soldi da parte, che sia rasarsi la testa, cosa che io oggi non ho fatto, cosa che sia mettersi a posto la barba, cosa che sia iniziare una dieta, cosa che sia allenarsi meglio, che sia concentrarsi sul proprio lavoro, trovare uno migliore, c'è sempre qualcosa che si può migliorare la propria vita, quindi, se siete stanchi a trovare scuse e colpevoli, bene, quindi, mettete il like, scrivete i commenti, condividete il video, e come sempre, se avete richieste, potete farle tramite Instagram, o mail, e poi, se questi video, vi trasmettono valore, e trovate risposte, a domande, che vi ponete, o risposte a domande che non vi ponete, ma trovate ugualmente le risposte, potete fare una donazione, buona!